La scuola di Maria, Regina della Pace, mesi di agosto e settembre 1983 Io sono felice, ma la mia gioia non sarà completa finché anche voi non sarete pieni di gioia e non potrete esserlo fino a quando non comprenderete il mio amore immenso. Desidero che tutta la vostra vita diventi preghiera. Figlioli, non dovete vivere nell'inquietudine. La pace unisca i vostri cuori. Non dimenticate, ogni forma di turbamento viene da Satana. State bene attenti a non spegnere in voi lo spirito di preghiera. Satana è arrabbiato con coloro che digiunano e si convertono. State attenti ad ogni pensiero. A Satana basta un vostro cattivo pensiero per allontanarvi da Dio. Non agitatevi, non preoccupatevi. Ogni agitazione viene da Satana. Voi siete figli di Dio. Dovete essere sempre calmi, nella pace, perché Dio guida tutto. Non meravigliatevi se vi dico questo. Voi siete proprio deboli perché pregate poco. Se siete molto occupati con lo studio o con il lavoro, pregate come minimo per mezz'ora al mattino e alla sera. Poi cercate altro tempo per la preghiera durante la giornata. Vi raccomando in modo particolare di partecipare alla messa quotidiana. Io sono la vostra madre. Apro continuamente le mani verso di voi. Io vi amo. Amo in particolare i miei figli che sono nella malattia, nella sofferenza e nel peccato. Io sono madre di tutti. Vi invito a pregare il Rosario di Gesù in questo modo. Nel primo mistero si contempla la nascita di Gesù e come intenzione particolare si prega per la pace. Nel secondo mistero si contempla Gesù che aiutava e dava tutto ai poveri e si prega per il Santo Padre e i Vescovi. Nel terzo mistero si contempla Gesù che si affidava totalmente al Padre e faceva sempre la sua volontà e si prega per i sacerdoti e per tutti coloro che sono consacrati a Dio in modo particolare. Nel quarto mistero si contempla Gesù che sapeva di dover dare la sua vita per noi e lo ha fatto senza condizioni perché ci amava e si prega per le famiglie. Nel quinto mistero si contempla Gesù che ha fatto della sua vita un sacrificio per noi e si prega per essere capaci di offrire la vita per il prossimo. Nel sesto mistero si contempla la vittoria di Gesù sulla morte e su Satana attraverso la Ressurrezione e si prega perché i cuori possano essere purificati dal peccato cosicché Gesù possa risuscitare in essi. Nel settimo mistero si contempla l'ascensione di Gesù al cielo e si prega perché la volontà di Dio trionfi e si compie in tutto. Nell'ottavo mistero si contempla Gesù che ha inviato lo Spirito Santo e si prega affinché lo Spirito Santo discenda su tutto il mondo. Dopo aver espresso l'intenzione suggerita per ogni mistero vi raccomando di aprire tutti insieme il cuore alla preghiera spontanea. Poi scegliete un canto adatto. Dopo il canto pregate cinque pater, salvo al settimo mistero dove si pregano tre pater e all'ottavo dove si pregano sette glorie al Padre. Alla fine si esclama O Gesù, sii per noi forza e protezione. Vi raccomando di non aggiungere e di non togliere nulla ai misteri del Rosario. Che tutto rimanga come vi ho indicato.